San Valentino, auguri a tutti gli innamorati e per fare gli auguri, per dare qualche suggerimento per qualche piccola idea regalo abbiamo questo L'amore si impara leggendo di Beatrice Dorigo e Massimo Minuti. Che cos'è? È un libro simpatico che ci accompagna attraverso la letteratura di tutti i tempi perché un libro ci fa delle domande, ci dà delle curiosità ma ci dà anche delle risposte, per cui il sottotitolo recita da Jane Austen a Bridget Jones 90 libri per capire i segreti di una relazione felice, potrebbe essere un'idea. Poi per una ragazza potrebbe essere carino questo Tavole Fiorite, ragazze che possono fare degli inviti per il proprio fidanzato o anche per altri, un bellissimo libro che aiuta ad avere qualche idea per decorare con i fiori le tavole. E per gli appassionati di calcio, per chi ha un fidanzato appassionato di calcio, il ricordo non è nuovo ma il 110, il libro celebrativo dei 110 anni dell'Ellas Verona. Alcuni fidanzati l'hanno apprezzato moltissimo ed è stata un'idea carina dell'anno scorso. Auguri ancora!